Il carpino nero è un albero di medie dimensioni che raggiunge i 15 metri di altezza. La sua corteccia è bruna e screpolata in placchette rettangolari negli individui vecchi. Le foglie dal margine seghettato sono alterne, arrotondate alla base e accuminate all'apice. I fiori maschili e femminili sono sulla stessa pianta ma su tratti diversi del rama. Le infiorescenze maschili sono chiamate amenti e liberano il polline ad inizio primavera. In questo tipo di infiorescenze i fiori sono disposti a grappolo, generalmente pensili e cioè appesi che tendono verso il basso. Le spighe femminili sono verdastre raccolte a piccoli gruppi all'apice dei rami e una volta mature somigliano ai coni erbacei del luppolo. A causa delle brattee rigonfie a sacco per facilitare il volo del frutto. La brattea è una foglia che muta per proteggere frutti e fiori dal gelo o attacchi esterni. Il legno del carpino nero è pesante e ottimo come combustibile o per produrre manici e altri utensili.